Da troppo tempo i camion dei rifiuti parcheggiano di fronte al comune, una nuova segnalazione dai cittadini su una potenziale emergenza sanitaria a Tortora. Da diverso tempo, infatti, i mezzi di raccolta dell'Alto Tireno Cosentino S.P.A. stazionano in via panoramica al porto, spesso anche carichi di rifiuti, in attesa di effettuare il servizio o di dirigersi verso i punti di trasferenza. Le immagini che in questo servizio vi stiamo mostrando risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 21 marzo, intorno all'ora di pranzo. Uno degli automezzi, come potete vedere, è carico di sacchetti dell'immondizia, solo a pochi metri di distanza i pulmini utilizzati per il trasporto degli scolari, più indietro invece due autocompattatori di dimensioni maggiori. Una situazione inaccettabile, ha commentato l'assessore all'ambiente del comune di Tortora Franco Chiappetta, che, iniziata come temporanea e d'urgenza, l'ATC sta invece facendo durare più del dovuto. Non possiamo più tollerare oltre, ha aggiunto Chiappetta, e le difficoltà operative del privato non devono ricadere sul comune, a cui non spetta il compito di trovare una soluzione. Proprio oggi, conclude l'amministratore Tortorese, ho dato istruzione alla Polizia Municipale per effettuare verifiche su questa situazione e prendere i provvedimenti eventualmente necessari. Il disagio per lo stazionamento di questi mezzi di raccolta è acuito non solo dalla presenza della casa municipale e di una scuola materna, ma anche dalla vicinanza al punto di parcheggio degli scuola bus che effettuano il servizio di trasporto degli alunni, oltre che dalla presenza di diverse civili abitazioni. La dirigenza dell'Alto Tirreno Cosentino, chiamata in causa su questa vicenda, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.